I nuclei di cure primarie essenziali per la medicina del territorio sono a rischio chiusura e così rimangono. L'Asla d'oggi non ha fornito risposte chiare, i medici non vengono sostituiti. Oggi in conferenza stampa si è tornati ad accendere l'attenzione e la battaglia prosegue. Nucle che operano sul territorio comunale dal 2007 in modo associato, aperti 13 ore al giorno per garantire la continuità di cure di base a tutta la popolazione. All'Aquila ci sono quattro nuclei distribuiti sul territorio comunale per assicurare la massima accessibilità delle cittadine e dei cittadini all'assistenza di base a ovest della città vicino all'ospedale, ad est nei pressi dell'ex ospedale di Colle Maggio e con una sede periferica paganica a nord della città nei quartieri di San Francesca e Torrione. Io faccio l'esempio di questo nucleo dove oggi facciamo questa conferenza stampa che era costituito da 10 medici per un totale di 13.500 assistiti che potevano soffrire questi servizi. Inizio adesso siamo ridotti a 5 medici, presto saremo 4 e quindi noi abbiamo continuato a fornire tutti i servizi che ci erano stati chiesti anche agli assistiti dei medici che sono andati in pensione attraverso ovviamente il contributo e la collaborazione con i nuovi medici ma tuttora siamo definanziati per il 50%. Quindi chiaramente questa è una situazione che a breve diventerà insostenibile. L'asle dell'Aquila, a differenza di altre asle, ha avviato uno smembramento dei nuclei rimpedendo la sostituzione dei medici e minacciando la fruizione di un servizio che era per circa 50.000 utenti e che va avanti grazie ai giovani medici che hanno preso in carico gli assistiti assegnati al personale in quiescenza. Quello fatto dai medici e dai sindacati è un vero e proprio appello ai cittadini ad essere con loro. Oltre alle raccolte firme già avviate e che ne hanno avute davvero tantissimi gli adesioni, il 22 febbraio ci sarà una grande manifestazione sotto la direzione regionale dell'Asl. Ci troviamo in una condizione di stallo, non ci sono le sostituzioni dei medici in quiescenza, tra l'altro in una fase storica davvero particolare perché c'è un progressivo invecchiamento della popolazione, ciò vuol dire un aumento delle patologie croniche che porta e può portare a un sovraffollamento degli ospedali. Si dovrebbe potenziare la medicina territoriale, invece in questa asle di competenza di questa asle addirittura si crea un pregiudizio sulle strutture già esistenti, compromettendo il diritto alla salute e contestualmente i livelli occupazionali. Noi metteremo in campo diverse iniziative per raggiungere ad una grande manifestazione il 22 febbraio sotto la direzione generale dell'Asl.